Per noi è davvero importante a livello strategico essere presenti a Netconforum. L'e-commerce è un territorio che stiamo presidiando sempre di più e su cui stiamo investendo tantissimo. Riteniamo che ci siano degli spazi, spazi che non vengono colti dal mercato, spazi che possono essere di grande valore per i brand. Oggi abbiamo parlato nel nostro workshop di Amazon Marketing Cloud, una soluzione con una bassissima penetrazione sul mercato italiano e siamo stati i primi, a detta di Amazon, a usarla localmente. Troppo spesso la gestione del canale e-commerce sul sito proprietario e quella su Amazon sono separate e spesso subordinate a gestioni distinte, sales su Amazon, e-commerce sul sito proprietario. Da questo punto di vista crediamo che oggi i due canali non possano essere più gestiti separatamente e c'è un punto forte di congiungimento che è appunto Amazon Marketing Cloud. Un luogo sicuro, riparato, privacy first, dove i brand possono mettere insieme i dati dell'e-commerce proprietario e quelli di Amazon per trarre grande vantaggio sia in termini di insight sia in termini di attivazione. Abbiamo visto dei ROI eccezionali sui segmenti e sull'uso di Amazon Marketing Cloud e degli insight utilissimi al marketing per guidare le proprie strategie e-commerce. Grazie alla nostra collaborazione con l'Avazza che va avanti da molti anni e soprattutto la disponibilità del cliente a testare sempre soluzioni innovative ci ha permesso nell'arco di questi anni di mettere in piedi un ecosistema veramente molto complesso che mette insieme da un lato i dati di prima parte del cliente e dall'altro tutta la grande quantità di dati che l'e-commerce Amazon ci mette a disposizione. Sono progetti che non possono essere fatti e scalati su tutti i clienti per due principali motivi. Da un lato la disponibilità all'auto cliente di infrastrutture dati ma anche di risorse e persone che possano aiutare poi il partner a mettere a terra queste progettualità. E soprattutto l'auto partner dove servono team molto strutturate con alte competenze in ambito cloud e tech. Quindi questo progetto che va avanti da più di due anni che si inserisce in una progettualità molto più ampia di gestione del dato di prima parte del cliente ci ha permesso di dare all'Avazza questa infrastruttura, questo sistema che sta utilizzando per tirare fuori molti insight e andare a ottimizzare le proprie campagne marketing e media. Grazie ad Amazon Marketing Cloud e alla partnership con Group M e Acceleration siamo riusciti effettivamente a capire che cosa fanno i nostri clienti non solo sul nostro D2C, quindi sul nostro e-commerce, ma anche su Amazon. Informazione molto importante perché abbiamo finalmente capito se ci sono alcuni utenti che magari non ci acquistavano più sul nostro e-commerce ma hanno effettivamente cominciato ad acquistarci su Amazon. Questo quindi ci ha portati a determinare tutta una serie di nuove tattiche e strategie per le nostre campagne di media performance che quindi ci portano ad incrementare le nostre revenue attese o a fare efficienza in termini di investimenti. Diciamo che quindi siamo molto soddisfatti della partnership è qualcosa che continuerà a evolversi con nuove features di Amazon Marketing Cloud che ci permetterà di avere una vista ancora più estesa e dettagliata di quelli che sono i clienti che ci acquistano su Amazon non solo quelli toccati dalle nostre campagne performance ma tutti quanti quelli che ci acquistano. Quindi è qualcosa di assolutamente pionieristico e innovativo sappiamo che non tanti brand lo stanno facendo e quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo insieme a noi. Grazie a tutti.